Sono Giacomo Centinaro, un giovane odonto tecnico della provincia di Teramo, ho 24 anni. Mi sono iscritto per la prima volta all'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, grazie all'insociativo IOP, e spero possa aiutarmi ad acquisire capacità e mezzi per la mia crescita personale. Sono molto curioso di questo format congressuale che si terrà a Bologna il 19 e il 20 novembre, e spero di vedervi lì. Grazie.